Siamo al minuto 4 Tiro da fuori di Jones E la segna Sua scarsa pulività Di velocità Nella serenità Qui su una poca intensità E attenzione difficile Ecco il più sete per Pesca Che è entrato in campo con Alessandro Cassese La palla a Jones La palla a Gaspardo E' distretto a uno step back Però è il miglior realizzatore Di Sassari non deve essere Una cosa che passa Oggi bisogna fare la partita E portate per proseguire Un momento positivo Deve essere figlio a si stessa Deve essere figlio unico Di fatto di me Se c'è la palla Tesero scarica velocemente Allora non sapeva di me Il tiro ancora da fuori Questa volta non va In verità c'è un bel letto Ha scelto a massa Leonardo che Cerca l'uno contro l'uno Sì Siamo a meno sete Dai forza Adesso ho messo il campo Per Cremona Sono rimessa E questo è già un buon segno Allora vediamo Si Holloway Coperto A Jones Di cena in Puglupoli E questa volta Non va sempre Il cammino scende la sensazione di quello che è stata di contento si fa la borsa adesso lui è già più allenato rispetto a sì sì perché ha giocato la sera prima di venire in Italia quindi era già allenato e rodato poi chiaramente anche per lui sempre contento per il tuo schemi non c'è le palla buonissima difesa di Gasparri che fa forzare il zio quasi di Tomas Holloway comincia a buttare lì Mian la linea continua a buttare il tiro Holloway pagano 6 secondi Mian Mian questa è una volta scontina è una volta scontina che il tiro in Serie A ha ballato 3-4 non c'è che non c'è è la scontina che non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è